Ok, riprendiamo con la lettura dei portfogli. Vi chiedo soltanto di avvisarmi un quarto d'ora prima della fine, perché devo leggere un'ultima cosa. Vai, tuo nome e cognome? Allora, Alessandro Ribezzi, mi occupo... Alessandro Ribezzi, con due Z, una B e due Z, Ribezzi. Ok. E mi occupo... le immagini che ho portato sono fotografia, manipolazione digitale e pittura. Pittura che ho iniziato da un anno e mezzo a questa parte. Non sono immagini con un progetto che io sto seguendo, nel senso che io lo faccio come lavoro, per quanto riguarda la fotografia lo faccio come lavoro, quindi la mia ricerca è stata più che altro tecnica per un bisogno lavorativo. Da i set che preparo, spesso prendo delle pose che mi possono piacere e le analizzo diversamente, come vi faccio vedere ora. questa per esempio è una di queste, in cui da una semplice foto che avevo fatto, ho preso la ragazza e l'ho messa nell'interno di una stanza quasi vuota. e niente, praticamente tuttora io quando realizzo un set, divido i miei lavori in tre categorie, alcune le lascio fotografie, altre le faccio diventare manipolazioni e da poco le inizio a far diventare quadri. Però parto sempre dallo stesso procedimento, cioè che la realizzazione di un set, quindi molto spesso è anche casuale la realizzazione. Diciamo che mi piace sperimentare diverse tecniche, questa per esempio è un'immagine ma la realizzazione è stata fatta attraverso un programma di video. credo che sia uno, no, questa è l'ultima immagine per quanto riguarda il digitale e questo è un quadro, diciamo che ho iniziato a appassionarmi alla pittura per una questione sia perché potevo essere più fantasioso ed era anche stimolante a livello intellettuale di riuscire ad arrivare allo stesso livello, almeno quella è l'idea del digitale. questo è un dipinto, è un 100%, è olio, la tecnica di utilizzo è olio. e questo è un altro, non riesco a farvele vedere però in... no, ma devi abbassare la percentuale di ingrandimento secondo me. di Lida dove? di Lida e Meno anche qui non sto seguendo un progetto perché avendo iniziato da un anno e mezzo la mia ricerca è stata più che altro tecnica perché ovviamente mi sono dovuto scontrare con con la tecnica dell'olio che è abbastanza complicata e niente questa è l'ultima immagine. ok, scendiamo la luce e... scatenatevi, passa il microfono. non pensi di dover forse... no, domande no, afferma. allora penso che dovresti sperimentare di più, forse proprio nel linguaggio stesso, cioè nel medium che utilizzi e pensare anche se vuoi unificare i vari medium che utilizzi oppure se creare delle nette distinzioni poi fra uno e l'altro. e poi un'altra cosa che ho notato è che alcune immagini sembrano da rivista e io cercherei di staccarmi da questa cosa, però è una cosa personale. quelle fotografiche intendi? immagini da rivista, ok. non capisco perché sei passato alla pittura, nel senso che facevi delle cose di un certo tipo con la fotografia e penso che il livello che puoi raggiungere ulteriormente in questa direzione con la pittura cioè devi scardinare proprio forse l'approccio all'immagine, nel senso che venivano benissimo con la fotografia queste cose, no? penso che per te è pure molto più veloce e meno dispendioso di energie. voglio dire il contenuto, il messaggio che arriva fai meno fatica a farlo con la fotografia, lo fai già, siccome non sei mi sembra che i dipinti ad olio vadano a cercare qualcos'altro che già non avevi con la fotografia, no? e quindi non riesco a giustificare il passaggio se non giustamente tu hai sottolineato che è ancora un esercizio tecnico, no? però forse a ragion veduta di tutti i discorsi che abbiamo fatto fino adesso, compreso il mio ti converrebbe non andare nella stessa direzione provare a fare qualcosa di completamente diverso con la pittura e vedere se è interessante passare alla pittura per qualche altro motivo Qualcun altro? dai, dai, sembra che prepari i set fotografici per l'amico tuo cioè lo prepari il set e lui lo dipinge così, tutto qui non è molto cattivo non è molto cattivo quindi ti hanno detto riassumo ti hanno detto che un certo tipo di immaginario un po' rievoca alcune immagini delle riviste patinate soprattutto quelle l'immaginario fotografico che è tipicamente diciamo così un po' fashion per certi versi ti hanno anche detto che tutto sommato il passaggio alla pittura non sembra aggiungere un'ulteriore espansione del lessico che tu utilizzi nella fotografia digitale io aggiungo che nella tua esposizione è mancato completamente un vero movente cioè non si capisce tu che cosa qual è la tua ossessione tematica o formale nel senso che certo io comprendo che tu faccia di necessità virtù per cui ti trovi nella situazione in cui stai eseguendo un lavoro di tipo professionale e rubacchi tempo e frame dal lavoro professionale per lavorarci con un'altra intenzionalità e quindi trasportare quel già fatto dentro il mondo dell'arte lo trovo una possibilità anche se forse è una scorciatoia nel senso che sei portato ovviamente a dover scartare quando fai il lavoro professionale quelle cose che non si addicono al lavoro artistico il problema è un po' quello che abbiamo già menzionato io qua non vedo che cosa realmente ti interessa posso solo dire che ti interessa l'immagine femminile però è una cosa molto generica cioè non c'è un ambito di indagine non so se si può ancora configurare come un'indagine la tua oppure un timido avvicinamento al linguaggio dell'arte certo è che a livello meramente formale stai lavorando su un immaginario ampiamente calcato sia nel digitale che in pittura e in pittura con l'aggravante che l'immaginario che tu stai cercando di raffigurare richiama moltissimo un certo immaginario kitsch del fantasy erotico anni 70 un certo tipo di immaginario kitsch neanche quello diciamo alternativo e underground di un certo fumetto ipermimetico a tema fantasy ma proprio quello che finisce poi sui poster scadenti degli anni 70 cioè la donnina con la farfalla con qualcosa di erotico e qualcosa di metamorfico e di ibrido nella sua anatomia è tutto molto calcato già da lungo tempo cioè lo sai bene che questa gamma espressiva è una sorta di binario morto ti consiglio perché sei all'inizio di un'indagine artistica di precisare il tema ossessivo di eleggere un'ossessione come dire tra le cose che ti frullano nel cervello e farla diventare importante e di insistere su un media piuttosto che sull'altro perché anche nel campo della manipolazione digitale al di là delle specifiche tecniche che possono esserci non è sufficiente perché l'immagine che poi proponi anche se tu utilizzi correttamente il mezzo l'immagine in sé non ha nulla di innovativo non ha nulla di distintivo non innovativo perché non è che dobbiamo per forza essere degli innovatori però essere distinti quello sì non è distintivo ci sono centinaia di migliaia di immagini sovrapponibili a quelle che tu hai creato e che non dicono nulla di meno di quello che dici tu cioè la donna più o meno figa più o meno lasciva in un'atmosfera più o meno sospesa con qualche cosa di fantastico a cui si tende è tutto abbastanza già visto per cui quello che io avverto è un isolamento di confronto rispetto al mondo reale dell'arte ancora un'assenza di dialettica anche interna tra te e quello che realmente c'è là fuori nelle produzioni artistiche che è un po' la stessa cosa che valsa anche negli altri due casi con il fatto che tu hai iniziato da poco e quindi c'è anche l'incertezza e aggravata dal fatto che tu non sai ancora in che direzione esattamente andare questo si percepisce cioè questa immagine pittorica però essenzialmente al di là del tuo esercizio e del provare che puoi fare certe cose non aggiunge nulla nel grande bacino nel grande serbatoio iconografico della contemporaneità anzi tende piuttosto a scivolare in moduli passati di un vintage nemmeno troppo elegante diciamo così ok perfetto potete aggiungere altro volete aggiungere altro siamo qua ovviamente per migliorare dovete considerare la critica come una forma di incoraggiamento non come una forma di distruzione e di scoraggiamento chi è che è pronto? tu bene noto che quasi mai chi è soggetto alle critiche scrive e si annota le cose ti ricordi tutto questa l'ho già sentita in oltre dieci edizioni di questo corso per capire un po' come mi devo muovere con le tempistiche chi altro fa vedere le cose? ok uno e uno due ok tre ok nome e cognome mi chiamo Lecci Emanuele posso dirvi una cosa? la smettete di mettere prima il cognome che non siamo all'anagrafe? mi chiamo Emanuele Lecci ecco ecco la mia ricerca artistica è puntata su uno sguardo alla vita quotidiana e ricerco appunto un contatto tra l'uomo e prima di tutto tra l'uomo e la natura e inoltre il mio sguardo volge anche al fatto che ormai diciamo ormai l'uomo sia come dire ormai l'uomo non cerca più un modo di essere ma lo fa solo apparendo e molte volte anche sbagliando insomma il mio lavoro è un acrilico su tela e come si può vedere in questa foto si si vede si si vede vorremmo vederla intera però eh ehm si zoom percentuale di visualizza ecco percentuale 75% prova ok ok allora nei miei lavori in questa serie di lavori cerco appunto di mettere in relazione la natura e lo spazio infatti è volutamente lo spazio è volutamente lasciato diciamo grigio con questa apertura alle spalle o a fianco diciamo alle alle figure per cercare di creare e piani piani differenti e cerco di e di far mischiare diciamo così e la l'animale in questione l'uccello in questione con la figura e e quasi a a a dissolvere diciamo nell'aria i due i due soggetti e non proprio completamente perché non non mi interessa e perché mi interessa comunque far vedere questo tipo di di movimento questa serie è fatta tutta in questo modo scusate le foto però un po' questo è il mio ultimo lavoro ho fatto tra il 2013 e il 2014 non sono dipinti di grandi dimensioni e i più grandi sono un 40 60 e come potete vedere c'è sempre questa relazione tra animale insomma è un po' più piano perché sennò non vediamo questi sono dei lavori più piccoli 20 20 ho creato questa serie di 20 lavoretti di 20 lavori per creare un'installazione di cui ho dimenticato di inserire la foto e qui appunto si si nota maggiormente il modo in cui le figure si dissolvono nell'aria e si completano una all'altra da qui iniziamo un lavoro che è una serie di lavori sulla contaminazione che ho fatto anni addietro non molti nel 2010 2011 ho fatto questa serie di lavori con sempre con con l'acrilico su grandi dimensioni un metro per 170 le misure sono più grandi degli ultimi questo è un problema per di lavori per far capire insomma ok questo era l'ultimo rilasso rilasso accendiamo la luce per favore allora dico questo prima di iniziare di lasciare la parola è ovvio che spiegare il proprio lavoro significa abituarsi a spiegarlo significa provare a spiegarlo non è vergognoso mettersi davanti allo specchio e farsi il discorso è un modo per iniziare a farlo è un po' come quando da ragazzi si doveva imparare la lezione da ripetere a scuola bisogna esercitarsi cioè quando l'eloquio è così claudicante e balbettante valbettante incerto il risultato è altrettanto valbettante claudicante e incerto questo indipendentemente dalla natura dei lavori e si dà l'impressione di non avere molto da dire in verità quando non si ha molto da dire significa che non si ha molto da dire spesso anche dentro il lavoro quindi c'è una problematica di assenza di idee o di carenza di idee studiare serve perché come vi ho detto le idee sono in giro le idee si prendono da fuori di noi anche quindi attraverso lo studio attraverso la visione attraverso il viaggio attraverso la capacità e la disponibilità allo spostamento noi ci arricchiamo introduciamo nuove idee contribuiamo a che il cervello crei nuovi neuroni in questa maniera ci vengono idee nuove e diverse che nascono dalla contaminazione di una o più idee ok? cioè quando a me dispiace molto vedere quando c'è questa difficoltà a raccontare che inevitabilmente poi questa difficoltà a raccontare corrisponde a una serie di cose corrisponde a una mancata disponibilità ad arricchirsi anche culturalmente ok? allora andiamo nel nel portfolio cosa possiamo dire di quello che avete detto però non fatemi eh? dai forza allora secondo me il registro visivo è un po' povero alza la voce si sente? ah dicevo il registro visivo è ancora povero secondo me spiega meglio spiego subito che ci sono poche immagini che raffigurano temi comunque super trattati soprattutto sta farfalla che la vedo ovunque tutti la usano sta farfalla secondo me per evolvere per evolvere ulteriormente ci vorrebbe lo stimolo di una immagine più inedita qualcosa che vabbè sicuramente l'avranno trattata ma non così tanti quindi arricchire soprattutto la propria il proprio registro visivo la propria agenda direbbe Baxand non so quest'ultimo se l'hai fatto recentemente quest'ultimo lavoro però qua vedo un modo interessante di risolvere l'immagine soprattutto quella a destra secondo me dovresti lavorare su questa metodologia che secondo me un po' ce l'hai già cioè di costruire delle immagini in maniera comunque non ovvia però devi usare immagini tra virgolette inedite secondo me quindi tu vuoi dire che se lui sostituisce l'iconografia è più ispirato non è una cosa automatica io potrei obiettare a questa cosa e dire che voi avete la tendenza a giudicare il contenuto iconografico come più rilevante e io vi sto dicendo da tre giorni che è il modo non è il contenuto iconografico è il modo se anche noi andiamo a sostituire l'iconografia ma il modo permane il risultato non cambia granché l'iconografia può essere rilevante una volta che abbiamo trovato un modo interessante di affrontare la composizione la struttura dell'immagine finché non abbiamo trovato un modo l'iconografia non ha nessun peso cioè anzi posso dire che trovando un modo l'iconografia si palesa da sé e il tipo di iconografia adatta emerge perché è il modo che la fa emergere è come dire che è il suono e la tipologia di suono che fa una lingua non è il significato cioè il fatto che una lingua abbia una prevalenza di suoni palatali piuttosto che gutturali non è legata al significato è un temperamento è un modo tipico di una gente di una regione di un clima e quindi nascono da dei suoni delle lingue ecco dalla pittura è il modo che fa nascere la pittura è il mood è quel modo di articolare le cose che è una maniera di vedere non è un oggetto del vedere ecco dell'arte è la maniera di vedere le cose non è le cose che vediamo l'elemento importante cos'altro si può dire? io mi domandavo se cioè ci sono dei colori contrastanti che tu tendi a usare in più in più lavori mi chiedevo se non hai bisogno di capire ancora di più quali tenere e quali non usare più come il discorso che facevamo ieri o l'altro la riduzione cromatica ce lo siamo detto anche là fuori credo che tu ti sia incastrato incastrato in misure troppo piccole le tue pitture a me ricordano mi sembrano quasi degli stencil un lavoro quasi murale un po' in bianco e nero c'è quello probabilmente stai castrando l'artista di strada che gente forse mi sembrano dei murales però in 40x40 un murales non viene fuori c'era un background di trita artista qualche stencil ok qualcos'altro? mi vai agli ultimi lavori? gli ultimi gli ultimi cioè i primi che abbiamo visto io noto una discrepanza anche nel modo di linguaggio capito? ci sono questi lavori che hanno una fattura e altri invece che sembrano fatti in 10 minuti in 5 minuti ma e sono pessima fattura me di collochi nel tempo cioè quel tipo sì tipo l'ultimo che lei dice che sembra un murale ho visto qualcosa vai scorri scorri di nuovo in giù vai sopra torna sopra mi permetta no sopra non ho perso tipo questi tipo questo pure quello precedente torna tu questo sembra un altro sembra un altro pittore cioè questa è un'altra cosa sì lo so che sono momenti però gli manca ancora il modo di fare questo tra l'altro è recente eh sì cioè sembra che stai tornando indietro con questo lavoro sembra che stai tornando indietro sì sì i lavori gli ultimi sono meno interessanti dei primi paradossalmente cioè nei primi c'è un'articolazione dello spazio se non altro un tentativo di articolazione dello spazio un po' più interessante eh anche se non risolto sicuramente dove l'ascendenza dal modo dello stencil può anche diventare un punto di forza non è necessario che tu escluda la modalità dello stencil però si vede che avendo praticato lo stencil arrivavi a quei dipinti con un pelino di maturità in più in questi eh a parte che non trovo assolutamente convincente né potrei definirlo un tema questa sorta di mescolamento e ibridazione a livello pittorico tra la figura dell'animale e la figura della persona anche perché non capisco che tipo a meno che non abbia una fattura eccellente ma comunque anche se l'avesse non capisco che cosa vuoi dire cioè mi sembra proprio che ti manchi un'idea qua e oltretutto in alcuni in alcuni punti come quello scendi a questi volti in primo piano eh cioè qui non riesco proprio a trovare eh un senso un senso formale linguistico visivo eh e poi ci sono questi volti un po' tirati via un po' fatti di fretta sembra sempre che vi manchi la dimensione del tempo che ci vuole a fare un buon dipinto che non è il tempo che si sono presi i nostri amici autodidatti eh e i permimetici è il tempo che ci vuole a trovare le giuste soluzioni mentre fai pittura per cui a livello attuale è molto 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 immaturo ma potrei dire che sei tu che sei molto immaturo nel tuo approccio alla pittura cioè non si capisce che cosa vuoi dire non si capisce come lo vuoi dire come ti hanno fatto notare non c'è il controllo della palette cromatica c'è un utilizzo improprio di accostamenti che tu non hai forzato abbastanza da renderlo proprio cioè se gli accostamenti cromatici sono sbagliati per essere giusti c'è la maniera di farli risultare giusti cioè devono essere così sbagliati ma così insistentemente sbagliati da diventare una grammatica invece qua non si è articolata la grammatica qua c'è soltanto lo sbaglio cioè lo sbaglio non è ancora diventato uno stile quindi c'è molto da lavorare ripeto che la ginnastica dell'occhio che dovete fare in particolare i pittori deve essere molta io voglio che vi vergognate di quello che fate quando vedete un lavoro di Neorauk o quando vedete un lavoro di Weischer o di Pitin o di Mortimer o di chi volete vi dovete vergognare dovete sentire la distanza tra voi e loro e dire sono drammaticamente indietro devo fare meglio dovete sentire questi stimoli non sono negativi se vi bloccate lì vuol dire che non avete abbastanza forza e passione per andare avanti se volete andare avanti dovete provare la frustrazione e dovete sbagliare e dovete esercitare la volontà qui ci sono troppe persone che non lavorano tutti i giorni alla propria arte l'arte è tutti i santi giorni la pratica è tutti i santi giorni la mano deve stare in esercizio e la mente anche qua c'è anche un errore di tipo se questo quadro è 20-20 tu devi far capire che è 20-20 nel portofoglio ne abbiamo parlato pure ieri cioè se il quadro di un metro per un metro non può essere riprodotto non può essere riprodotto anzi questo 20-20 è più grande di quello un metro per un metro vabbè questo una piccola cosa però se lo vediamo tutto il quadro non può essere 20-20 c'è un taglio c'è una parte tagliata credo non è quadrato sta a vedere il capello qua c'è una trave da vedere prima comunque spero tu sia frustrato abbastanza vai pure sotto il prossimo ricordatevi che sono le sculacciate che fanno bene ciao a tutti sono Giulia Gazza e questo è il mio lavoro ok portofoglio allora diciamo che mi occupo di arte visuale però la mia ricerca è una ricerca che è nata diciamo da studi di filosofia e di materie umanistiche perché comunque provengo da un liceo pedagogico e quindi sono stata diciamo più indirizzata allo studio piuttosto che alla tecnica quindi nei miei lavori magari non ci saranno dei diciamo delle cose da notare a livello magari tecnico ma sono dei lavori molto più magari minimalisti ma votati soprattutto a una ricerca quasi meditativa quasi proprio una ricerca di pazienza che è appunto a origine dallo studio di un filosofo che si chiama Immanuel Nevinas che poi si è tradotto nello studio di Jean-Luc Nancy che entrambi diciamo hanno ricercato intorno insomma all'individuo lo spazio che l'individuo ha nella pluralità degli altri esseri però questa è una ricerca che è lungi dall'essere diciamo puramente etica ed ontologica perché poi il mio vero punto a livello poi grafico estetico è il punto mi piace lavorare su serie ad esempio questa ultima è una serie in cui ho realizzato sì il punto ma sperimentando una nuova superficie che è quella ad esempio dei petali dei fiori e mi piace molto lavorare su materiali diversi ed è una ricerca questa che nel corso del fare si è aperto i propri orizzonti anche verso il mondo quale può essere quello appunto matematico geometrico dello studio anche del piano e della superficie e questi sono i miei ultimi lavori ed è prevedono una serie di 30 lavori che sono molto piccoli in realtà perché sono 10 per 15 questo ad esempio è un particolare di uno della serie questo è un altro ovviamente l'uso di petali in questo caso petali diversi nonostante siano sempre comunque petali da fiore a fiore possono cambiare anche la resa poi del puntino a livello pittorico e questo invece è un progetto è l'unico progetto che ha un nome che è il progetto Tangram e in questo caso io ho cucito su carta ed è una carta che è stata personalmente e naturalmente trattata quindi anche l'intervento sul supporto è una cosa che a me interessa molto è a dimensioni di 25 per 50 cm e questo è un particolare per sottolineare il fatto della cucitura questo è un altro lavoro che è quello che è in più nel quale si può notare soprattutto la ricerca anche di una ricerca più matematica anche sulla struttura del piano della superficie in quanto è una serie composta da 36 elementi e questo è per esempio il 36esimo quindi questo sarebbe il 36 di 36 il primo è una pagina completamente bianca il secondo ha solo un quadratino puntinato il terzo ha due quadratini e il 36esimo appunto è quello completo e si ha una lettura matematica in quanto il foglio precedentemente da uno schema è stato comunque diviso in parti uguali quindi c'è questa sorta di riempimento insomma questi sono dei particolari del lavoro ad esempio questo è il 35esimo perché mancava un solo questo invece era solo quello da due poi c'è questo progetto aperto invece che è un rotolo di 100 cm ossia un metro un rotolo un plastico che vorrei riuscire a riempire da sempre lavorando con su una materia che è plastica quindi non è più su carta qui sono dei sono dei particolari si ok è perché sono già nella texture del materiale si perché materiale industriale vado a colorarli ok si ritrova anche qua ad esempio si potrebbe ritrovare anche il fatto del riempimento come quello più matematico sopra perché qua la texture è già in realtà mi è stata già data in realtà e quindi vado io a riempirla e questa invece è una serie su plastica sempre gli stessi pannelli di prima però questa volta ho deciso di tagliarli e sono dei 50-50 e in questo caso il colore non è cioè il pallino non è colorato a caso come quelli di prima che in realtà sono cronologicamente dopo ma uso il bicolore proprio per dare un senso sia di ritmo che di lettura il fondo è un colore è sempre bianco è il problema delle immagini perché fa riflesso nella fotografia però il pannello è sempre bianco però uso solo due tonalità di colore in questo caso ad esempio è il rosso e il blu nel caso poi ci sono comunque i particolari in questo caso è giallo e viola e questo è il particolare che vado qui non c'è una texture pre sì sì è sempre lo stesso è sempre lo stesso materiale plastico questi sono i particolari commesso e ho messo anche delle foto fatte alle proiezioni che abbiamo perché questi sono stati esposti alla mostra insieme a Francesco e Marco che abbiamo tenuto proprio qui all'ecnos mi sembrava cioè abbiamo anche messo queste proiezioni per far vedere anche il modo di lavorare infine abbiamo questi lavori precedenti che sono sempre tutti su carta però in questo caso il pallino è sempre carta su carta ma è applicato non è disegnato come nel caso precedente questo è un piccolo particolare in questo caso invece ho lavorato sia in altri sia sul supporto che sull'applicazione perché sono bottoni cuciti su carta ma anche la carta è stata prima preparata perché la texture che si vede dei puntini minuscoli sono in realtà sempre stati fatti prima da me non era una texture già esistente questo è un particolare in cui si può notare meglio la texture sotto questo è uno dei miei primi lavori invece sempre su carta però ho realizzato con dei pastelli acquarellabili sono degli elementi circolari che però si vanno diciamo a unificare in un reticolo quindi trovano un loro spazio però diciamo in maniera quasi simbolica perché comunque in realtà ogni puntino non è come quelli nei lavori che sono venuti dopo diciamo regolare qui ognuno ha ogni puntino si prende quasi la libertà di essere di maniera di grandezza diversa di colore diverso in posizioni del quadrato diverse però unificati poi da una superficie unitaria questo è un particolare di questo lavoro e questi sono i miei primissimi invece lavori su carta paglia che è la carta che ho utilizzato anche nel lavoro precedente e sono realizzati con sempre pastelli acquarellabili che però riprendono i lavori che abbiamo visto prima sul materiale plastico perché anche qua c'è sempre la dualità del colore e infine un'altra serie che si presenta da puntini più grossi però da pensare quasi come un trittico in quanto per esempio ho messo questo con i puntini rossi poi quello con i puntini bianchi ma nell'esposizione ci sarà anche un terzo che è quasi una sintesi degli altri due precedenti e al fine del mio portfoglio ah beh qui ho messo anche le foto documento della mostra che abbiamo tenuto e si stanno sia i lavori proprio i primissimi che quello con il reticolo e poi il curriculum espositivo con la mia personale e le collettive allora i titoli ricordati sempre in corsivo e non maiuscoli va bene collettive personali non in maiuscolo ma in grassetto in grassetto gli anni in grassetto va bene ah e qui ho messo il link perché abbiamo realizzato un catalogo della mostra non so se no no è necessario basta che tu metta qua alla fine tra parentesi cut punto perfetto ok luce feedback sono contento che in questo portfoglio secondo me si vede la continuità la pratica la costanza e si vede che dall'ultimo lavoro a quelli più recenti cioè dai primi c'è una crescita questo si nota si vede una continuità sicuramente può piacere non può non piacere non so se è una crescita ma questo è un fattore preferenziale però sicuramente si nota una compattezza e una coerenza e comunque si nota una processualità ti volevo solo segnalare conosci Vittorio Pitardi di Galatina è un artista che ha fatto esattamente la stessa cosa che ha fatto col pluriball siccome l'ha fatta quasi una ventina d'anni fa insomma un quindicino sicuro perché lui lavora sulla scomposizione della pennellata inizialmente facendo diventare la pennellata solida poi è arrivata al punto e l'ha fatta esattamente così con dei pannelli di pluriball con dentro le goccioline del colore scomposte come? si iniettate con la siringa una a una così è abbastanza simile magari lo vai a conoscere no ah ok hai dipinto all'esterno? esatto ah ecco io ho capito ok lui invece proprio inietta singolarmente i vari e poi mi incuriosiva il passaggio successivo dove il punto iniziava a diventare non un tono unico ma c'era come dire un misto cioè era sì che a distanza mi sembrava facesse anche un effetto quasi come all'arte cinetica non so come dire cioè iniziava a vibrare tutto il quadro quindi oltre al punto singolo inizia a prendere senso anche per me maggiormente tutto l'insieme allora c'è una coerenza ovviamente nel percorso che è una cosa molto buona tu hai visto i dot paintings di Samia Nils ovviamente è un orizzonte da tenere presente molti hanno lavorato su questo tipo di figura ovviamente penso anche a Davide Nido con le sue strutture orbicollari e le sue onde frattali lui utilizzava però la colla caldo colorata e creava delle strutture circolari anche concentriche che chiamava strutture orbicollari e che poi ha trasportato dalla bidimensione anche nella terza dimensione creando queste strutture proprio con la colla caldo raffreddata che creavano come dei filamenti di DNA come altri riferimenti a cui mi pare giusto che tu che tu vada a riguardarti a vedere per una certa ossessività tematica quello che ha fatto Palca per esempio con i numeri numerando i quadri con sequenze numeriche ossessive e progressive e ovviamente invece per un certo tipo di impatto pittorico legato al pattern d'Orazio sicuramente da vedere io ho l'impressione dal tuo lavoro che tu stia troppo prematuramente declinando questa ricerca in diverse e troppe direzioni vale a dire sia utilizzando supporti diversi sia utilizzando tecniche diverse ho la sensazione che se tu ti concentrassi questa ricerca per il momento per poi sconfinare perché se tu sconfini improvvisamente subito da giovane si ha modo di apprezzare meno questa ossessività perché stai già frammentando la tua grammatica in troppi livelli quindi l'unica cosa che rimane è l'idea del punto a cui tu hai dato un corpus teorico dicendo che il punto è l'individuo il suo rapporto con il resto però non arrivare molto altro mentre diventi più persuasiva quando utilizzi la pittura cioè quando limiti il campo all'aspetto pittorico oppure con tecniche non precisamente specificamente pittoriche perché è come se dovessi prima costruire bene la grammatica cioè il modo cioè tu hai il tema hai un modo di procedere cioè hai una procedura ma non hai ancora ben definito il modo io trovo che le cose più interessanti che hai fatto sono quelle in cui c'è la bicromia i pallini di due colori chiaramente vai nell'ambito della pittura reticolare ottica però è un ambito che lascia ancora molto margine di essere esplorato per esempio è sufficiente che le forme non siano perfettamente geometriche ma che conservino un chedi del gesto umano un chedi imperfetto per rimanere comunque punti ma sono convinto che in quella dimensione lì focalizzandosi prima sulla ricerca di qualcosa che è tuo al di là del punto perché il punto è di tutti il cerchio è di tutti ma farlo diventare talmente tuo che diventa un linguaggio a quel punto quando è maturata questa cosa ecco che vedere i bottoni utilizzati da te acquista un senso cioè io conosco già la tua grammatica ho acquisito il tuo linguaggio e la tua sessione e quando vedo che tu la espandi la posso apprezzare posso capire che per te il punto non è più il punto dipinto ma è il punto globale in tutte le tue declinazioni tu invece sei partita subito a raggio e mi dai l'impressione di chi ha sparato in tutte le direzioni possibili e a cui non resta che fare altro che trovare sempre nuovi supporti in cui declinare questa cosa ho paura che poi il tuo diventi una gara ad inseguire il nuovo modo in cui declinare quando invece se tu restringi il campo e per un po' ossessivamente applichi quell'idea solo a un terreno tu possa scoprire delle cose in più su quel terreno e poi quando c'è questo ecco che la licenza di calcare altri territori inizia a diventare interessante avete capito cosa intendo dire non dico che tu debba fare così io ho espresso anche una mia preferenza se vedessi il tuo lavoro applicato alla pittura benché non nuovissimo il fatto di eleggere una struttura e reiterarla reiterarlo ossessivamente sono convinto che tu potresti trovare delle cose molto interessanti e un tuo stile personale va da sé per tornare prosaicamente sempre al solito tema che avresti qualche soddisfazione economica in più sarei tu a decidere cosa fare però penso che ci sia una sensibilità pittorica che tu non dovresti ignorare tempo 3 e mezza 3 e mezza 4 meno 20 vabbè facciamo un altro poi facciamo la pausa non ti ho chiesto se hai fatto l'accademia stai facendo l'accademia ok ok grazie allora devo presupporre che nome e cognome io sono Marco Vitale devo presupporre che vabbè mancano alcune foto in questo portofoglio perché il tempo era poco è che la mia ricerca è iniziata fondamentalmente da un anno o due un anno in maniera più impegnata ecco ho sempre letto e poi a un certo punto ho sempre fatto fotografia però non stavo ancora imparando ecco non sentivo di mettere mani lì dove non toccare temi toccare a un certo punto è venuto automatico è venuto spontaneo non ho deciso ok adesso comincio questo ho provato a fare un portofoglio in inglese quindi non ho usato lo statement anche perché non riesco ancora ad unificare lo devi tradurre ancora no no questo no 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 nel senso tu dillo in parole tue insomma quello che hai scritto lì sì questa è la descrizione del primo lavoro però nel senso ho preferito dare una spiegazione per ogni progetto piuttosto che uno statement perché i vari progetti che ho fatto in qualche modo sono parte essenziale della ricerca quindi non riesco ancora ad unificare i vari progetti appunto anche se trovo sempre di più delle linee comune il primo progetto si chiama Pure Decorative ed è una un'installazione formata da 1088 foto sono quattro gruppi di fotografie composte da 272 scatti per ognuna le foto sono ordinate in senso cronologico e andando a capo come una scrittura ed è partito cioè è una ricerca diciamo che è partita da da come ho imparato a usare la fotografia cioè io ho iniziato fotografando per imparare proprio tecnicamente lo strumento degli amici e vedevo che di fronte all'obiettivo cambiavano cambiavano molto cioè persone timide che diventavano con un ego che non immaginavo persone con un ego molto forte non sapevano come muoversi una cosa che mi catturava spesso andavo quasi anche a collezionare persone proprio perché mi piaceva il modo in cui a volte prendevo anche appunti e cercavo di creare gruppi di persone e vedere anche insieme come posavano o cose del genere al che ho detto a un certo punto ho pensato che mi sembrava interessante iniziare a lavorare su un progetto e quindi ho fotografato queste quattro persone e il progetto non ha tenuto diciamo una come si dice una una linea che è sempre stata rispettata cioè all'inizio ovvero i lavori che vabbè si vedono su questo tavolo più in fondo qua non si vedono sono più colorati per esempio e diciamo che se tu vedi uno scatto dopo l'altro il soggetto è più differente perché magari io davo ancora delle istruzioni ad esempio alza il braccio voltati mettiti tre quarti questo genere di invece sempre di più lasciato spazio all'altro lasciato spazio al soggetto perché ho visto che diventava più interessante e anche più in relazione con quello che era la mia ricerca tant'è che andando fino alla fine il soggetto si è trasformato quasi in una linea cioè in degli scatti che se visti decontestualizzati da questa installazione non riuscivi neanche a comprendere il fatto che si trattasse di una figura umana anche tecnicamente ad esempio ho cercato di allungare i tempi ho usato delle fantasie senza colore perché ho visto che rendevano meglio e poi mi piace anche l'idea di vedere la fotografia non come immagine o come fotografia ma proprio come oggetto e quindi anche per quello cercare di dare una fruizione diversa ad esempio il piano orizzontale il fatto della mancanza di una cornice il fatto che le fotografie fossero soltanto posate quindi che avessero anche il loro pericolo in un certo senso questo è un dettaglio e poi questa è stata una parte dell'installazione abbiamo sfruttato una scala che era presente qui per dare anche la possibilità di vedere dall'alto e quindi di avere visioni diverse della cosa quindi anche una fruizione diversa tornando indietro vedo prima una cosa l'opera in questo caso che ci hai mostrato è la singola fotografia o l'insieme? no è l'insieme delle fotografie ma in realtà è formata anche da altri lavori collaterali che sono video o altre altre fotografie ok ma per intenderci l'oggetto che possiamo considerare unico e completo qual è? è tutta la sequenza in tutta la sua lunghezza o è scomponibile in moduli? no se io fossi un venditore mi chiederei questa cosa no? no io penso che sia da considerare un gruppo unico di 1088 foto mentre i video sono cose a parte come cose sestanti che comunque trattano lo stesso tema a volte anche con le stesse immagini però con un altro linguaggio quindi secondo me hai risposto tornando indietro è un lavoro che sta a cavallo tra l'anno scorso e questo ed è un tema più intimo perché da un lato cerco di guardare fuori diciamo istintivamente quindi guardare all'altro essere curioso rispetto all'atteggiamento dell'altro però ho anche bisogno da un certo senso di portare dentro questo genere di stimoli ad esempio questo è un lavoro che è formato da 4 serie di fotografie che sono formate dalle stesse foto si può notare che in alcune sono di più altre sono di meno perché i soggetti che hanno ordinato hanno creato questi ordini fotografici potevano avevano anche la scelta di escludere alcuni scatti che non ritenevano essenziali a raccontare la storia il progetto nasce da un'esperienza personale molto intima infatti non è stato facile diciamo parlarne ed era una cosa che ha colpito molto diciamo la mia vita quindi lavorarci su è stato anche un modo di rifarmi ma soprattutto una necessità non solo terapeutica ma anche a livello di ricerca perché diciamo che anche un genere di artista a cui io mi sento attratto ad esempio i lavori di Sofical per esempio cioè prevedono una ricerca di questo tipo quindi non da un certo comando ad esempio dicevi di imitare in questo senso diciamo in certo non ho proprio imitato però mi sono rifatto molto non hai plagiato non ho plagiato ma ho imitato se ho preso da esempio ecco questa ad esempio questa installazione parte da una rottura di coppia che mi è personale e quindi per superarla io ho scritto questa lunghissima lettera al mio compagno e quando rileggevo la lettera alla fine non che avesse un progetto artisticamente in quel momento mi è venuta in mente un'opera di Sofical cioè abbia cura di sé è la risposta che lei ha chiesto di dare a 100 donne ad una lettera di rottura che le aveva dato il suo compagno e ce l'aveva scritto il suo compagno in cui le confessava di averla tradita quindi io ho cercato di fare di rispondere alla lettera di Sofical fra virgolette creando un insieme di foto con tutte le foto che del tempo ho passato insieme con questa persona il problema è che non riuscivo a creare a formare quest'ordine quindi è successo anche un po' per caso c'era una persona sconosciuta che mi ha detto sapeva cosa stavo lavorando perché eravamo un altro workshop e mi ha detto ma dai su togli questo fai così fai così mentre lui faceva ordine a modo suo per quanto io non ero nulla convinto di quello che lui stesse facendo perché ovviamente io legavo le foto dei momenti sapevo quali erano positive quali negative alcune accanto erano cromaticamente adatte ma per me non avevano alcun senso però appunto appuntavo qualsiasi cosa lui dicesse lo trovavo interessante perché era il suo modo di mettere ordine al posto mio al che ho chiesto a 15 sconosciuti di mettere ordine al posto mio questo insieme di foto però sono arrivato a questo punto del progetto in cui io fotografavo il loro risultato finale non ero ancora soddisfatto cioè non vedevo che mancava ancora qualcosa e quindi ho analizzato ancora meglio il lavoro di Sofical perché comunque anche sentivamente all'inizio avevo sentito questo lagame e ho visto che Sofical comunque non aveva chiesto a 100 donne qualsiasi di rispondere alle lettere al posto suo ma aveva chiesto a 100 donne che avessero un ruolo all'interno della società ad esempio una comica una scrittrice una ballerina cioè donne che avessero appunto il loro ruolo che fosse differente l'uno dall'altro quindi ho cercato dei ruoli e non è stato facile ho concluso anziché produrre una larga serie diminuire invece però ci è voluto un po' diciamo per arrivare a questo perché io tentavo di raccogliere più persone possibili e magari cercare di riunirle in base al loro ruolo però sono arrivato alla conclusione di prendere soltanto i quattro ruoli diciamo fondamentali nella mia vita ora che sono mio padre mia madre mia sorella mio fratello e quindi questo diciamo mi ha dato anche la soddisfazione di poter inglobare loro in un processo artistico quindi l'estellazione è formata dalle quattro serie fotografiche è più un testo che spiega comunque il progetto in divenire in modo molto sintetico in realtà in dieci frasi come uno statement appunto questo è un altro lavoro che è recente di quest'anno che è partito da un pezzo di una pagina di diario e quindi ho cercato di dare un'immagine a questa pagina di diario che parlava appunto del rapporto con un luogo con i luoghi che amiamo in qualche modo diventano quello che noi siamo quindi c'è sempre comunque questo diciamo nei miei lavori anche se lo sto notando dopo più che averlo scelto prima ecco un legame sul tema della casa o comunque del luogo il luogo è anche cioè più che la persona è proprio il luogo ecco come una relazione con un luogo animato in un certo senso e quindi questo è uno di quei lavori che si muove su questa linea dentro casa è un altro progetto che appunto si può legare con lo stesso tema ed è praticamente partito da una vecchia lettera che ho scritto a mio fratello che parlava della mia famiglia e ho scomposto comunque trovo interessante lavorare su cose molto intime perché ti mette ti obbliga a porre queste cose non come se ne stessi parlando con te stesso ma devi ritrattarle in un linguaggio che possa arrivare a tutti e non è facile e lo trovo interessante quindi ho preso questa lettera e ho cercato di raccontarla visivamente unendo delle immagini anche vecchie tutte le fotografie che non dovevo scattare io ma che magari avevo scattato sempre io però da piccolo quando giocavo con la macchina automatica e quindi sono foto da vecchi albion di famiglia una serie composta da 28 pezzi e nell'ultimo c'è un'ecografia proprio perché il tema di dentro casa a un certo punto mi ha riportato alla questione di qual è la prima casa effettivamente che abitiamo e stavo riflettendo sulla questione che per venire al mondo alla fine noi abbandoniamo quella che è la nostra prima casa e quindi è partito anche da questo il lavoro questo è un lavoro più vecchio nel 1938 si fa a un testo di Jean-Paul Sartre La nausea e ho trovato un passo del libro molto interessante quasi veramente diventato un'ossessione che parla di come un uomo vive la propria vita come se la raccontasse quindi vivere e raccontare siano due cose che non possono essere fatte contemporaneamente ma che l'uomo cerca di fare contemporaneamente per dare un senso alla propria vita quindi ho cercato di consegnare questa dicotomia tra racconto e vita attraverso delle polaroid non scattate quindi ho cercato in un vecchio mercatino una polaroid e ho preso le polaroid dentro non scattate quindi ho dovuto tagliare aprire con molta cautela la cartuccia della polaroid che non si può aprire perché e poi ho scritto sotto su un su un velo di plastica un telodino di plastica il testo scomposto appunto in dieci frasi in nove più la data in cui è stata scritta è stato pubblicato il testo e quindi in questo modo la polaroid l'immagine vacante consegnava proprio una vita vissuta senza essere raccontata in questo senso questo è un lavoro ancora più più vecchio ed è una serie di fotografie basata su quattro definizioni prese dal vocabolario di opposti e quindi ad esempio buono e cattivo bello e brutto famoso anonimo di superficie e di animo e quindi sì alla fine il soggetto qua diventa quasi sfondo del testo lo riesce a vedere con difficoltà attraverso le righe ecco però effettivamente quello di cui parlano questi questi testi sono proprio dell'umanità quasi voler tracciare le basi o quello che può essere la mia visione di questo ok ci fermiamo accendete la luce trovo molto interessante il suo lavoro a livello concettuale mi ha fatto molto riflettere ho preferito di più la spiegazione del scusami ho preferito di più la spiegazione del risultato finale no? vabbè più che altro perché sono molto esteta quindi per quello però ho trovato tantissimo interessante il progetto quello là dove le persone potevano spostare l'ordine peccato che fosse molto personale cioè riguardante la tua vita ok perché magari uno può entrare perché dici peccato mi sembra che quasi tutti abbiano questo filo tutte hanno il filone della sua vita privata perché dato che ho trovato interessante il progetto di spostare cioè di poter intervenire su un'opera perché di solito uno la guarda in maniera passiva l'opera giusto non puoi intervenire lui mi dà l'occasione di poter spostare l'ordine senza distruggere l'opera ma semplicemente intervenendo secondo il mio gusto non è mica così aperta quell'opera lì no perché lui sceglie un filo soltanto determinate persone scelte da lui ah ok come se avesse confessato una sua cosa personale soltanto alle persone fidate cioè tu come pubblico non potevi fare quell'azione mi pare di capire mi pare di capire si quando eri al workshop però dico la finale è quattro variazioni fatte dalle persone che tu hai scelto ah ok cioè l'interattività è in fase compositiva non è nella fase finale cioè non è lo scopo ok ok no però non so è giusto un'idea dato che trovo molto interessante poter intervenire secondo me se ampli di più quel discorso e crei un qualcosa dove le persone possono intervenire senza distruggere l'opera lo trovo molto interessante ho detto prima del fatto che l'hai fatto molto personale magari a qualcuno può anche non interessare non lo so però su un discorso più astratto può diventare interessante non so se mi so spiegato bene cioè la tematica anziché essere molto personale diventa un pochino più generale dove io posso proiettarmi più facilmente in realtà quello che tu stai dicendo è un tuo interesse no? una tua quello che ti piacerebbe sì 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 però qua restando sul lavoro che lui ha svolto questo può succedere oppure no mi pare che però data la natura del suo lavoro non escludo che un elemento di interattività possa rifare capolino all'interno della sua ricerca però non mi sembra l'esito finale no 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 è chiaro mi ha fatto solo riflettere mentre lui parlava mi ha fatto riflettere su questo più che altro notazioni altre niente ok allora il lavoro sembra è già formato ha detto bene lui è proprio formato cioè c'hai un'identità c'hai di seguire un lavoro io la prima cosa che ho fatto appena ho visto il suo lavoro ho messo in associazione l'uso che ne fa lui il linguaggio fotografico e l'uso che ne fai tu ok gli ho messo gli ho paragonati beh ma è completamente perché sono due approcci completamente diversi sì sono due approcci diversi però il modo di usare il linguaggio con lo stesso mezzo mi pare anche che Marco non si possa dire che usa il linguaggio fotografico se non occasionalmente o comunque come strumento per intanto bene per l'esposizione bene perché qui c'è un modo che non è quella cosa che possiamo chiamare stile in senso estetico cioè non è lo riconosco è lui perché fa sempre quella cosa lì qui c'è un modus pensandi operandi che però ovviamente lo porta a dover declinare il lavoro ogni volta in maniera diversa tanto che se tu non sapessi che queste opere sono sue non potresti riconoscere quello che ha fatto la sequenza delle fotografie all'inizio con quello che ha fatto la disposizione diversa delle immagini con quello che ha fatto la numerazione delle polaroide il punto cioè il filo conduttore è io parto da me e da quello che sento e esperimento e traduco alcuni aspetti di ciò che vivo in qualche cosa che mi permetta di comunicare il senso di quello che vivo e di quello che intuisco di quello che scopro attraverso un linguaggio che è estetico per cui questo è veramente un modo di sentire e di vedere capito? poi io posso ovviamente lui se ne rende conto credo ma posso sempre insistere a mettere il dito nella piaga tanto è stato interessante sentirti quanto non è certo che la semplice visione a parte nella sequenza fotografica che è compiutamente già un altro estetico cioè lì la forma c'è quindi anche se non so quello che mi hai detto non so da come nasce vedo comunque che l'opera ha una sua capacità comunicativa visuale al di là del contenuto devo sempre dire che nelle altre cose l'elemento fortemente accessorio del racconto diventa predominante per poter apprezzare l'opera cioè io apprezzo moltissimo l'opera dopo che tu mi hai raccontato come sei partito da una cosa e sei arrivato all'altra indipendentemente dal fatto dell'accadimento personale non lo giudico buono perché l'accadimento personale l'ha generato giudico buono il processo che tu hai fatto però devo sempre dire che quella necessità di dire di raccontare perché il messaggio finalmente visivo ed estetico si compia mi sembra sempre un debito troppo pesante tra l'opera e la spiega diciamo così è quello lì l'unico limite per il resto tu guardi già in un modo hai già una tua capacità di organizzare il lavoro perché si vince anche una capacità di risolvere determinate problematiche e quindi penso che tu sia a un buon punto in una buona direzione e io personalmente sarei grato se riuscissi anche tu a impegnarti a risolvere questo problema di asservimento al testo che è testo di racconto che è testo di spiegazione sarebbe bello riuscire a far passare questa cosa ti do un suggerimento per quell'opera abbia cura di sé sarebbe più opportuno data l'utilizzo massiccio che tu fai del riferimento di mettere magari tra parentesi omaggio a Sophie Cole oppure pensando a Sophie Cole o quello che vuoi o trova tu una formula però non è non ti diminuisce quel riferimento e può metterti a riparo da chi conoscendo magari il procedimento di quell'opera possa dire beh però magari proprio perché non ha ascoltato il tuo racconto non sa che tu gli hai dato veramente un'importanza e che quella cosa ha contribuito a che tu risolvessi il tuo lavoro e quindi può dire e beh però ha guardato troppo quella cosa lì invece no hai guardato quella cosa lì ma hai fatto un'altra cosa ecco limitiamo al minimo la necessità di dire perché ponì che siamo in una mossa in cui tu sfortunatamente quel giorno hai da risolvere altre questioni e non sei presente come facciamo a sapere che i tuoi lavori vengano apprezzati per quello che sono no dico che sento anche la necessità di mettere il testo poi anche per quello perché è difficile poi effettivamente rendere soltanto attraverso l'immagine quello che è un linguaggio cioè senza essere cioè se vuoi rimanere sintetico il testo diciamo è una via più semplice rispetto all'immagine è quella la vera soprattutto in un'arte di processo come la tua dove proprio è il percorso che fa l'opera lo so lo so bisogna trovare un modo non dico che il testo deve completamente scomparire ma deve veramente diventare un accessorio ma non così determinante cioè bisogna trovare il modo e questa è la grande sfida degli artisti concettuali facciamo pausa a lui c'è qualcun altro che doveva far vedere il portfoglio allora con lui terminiamo la lettura dei portfogli poi vi leggo una cosa poi apriamo una breve sessione di domande e risposte finali dopodiché io lascio la parola a Margherita e a Cristiano che vi spiegano un attimo il progetto grazie al quale sono stati realizzati questi incontri il progetto sia di questi incontri sia del in generale della loro associazione vi chiedo di pazientare fino alla fine e di prestare attenzione anche a loro perché ovviamente possono essere per voi una risorsa del territorio e per chi fa arte in generale ok il tuo nome ciao a tutti io sono Daniele Stendardo questo qui non è un portfoglio in realtà è un sito che io uso come più che altro un archivio per riunire un po' tutti i lavori che ho fatto durante questi anni così come riferimento insomma del lavoro che ho fatto fino ad ora io vengo dal writing fondamentalmente queste opere che sono raffigurate qui sono tutte acrilici su tela però avvenendo appunto al mondo del writing i graffiti volgarmente detti e ho fatto molte opere su commissione anche di grande formato tipo 3 metri per 2 6 metri per 3 insomma con vari stili durante gli anni che ho sperimentato tipo questo stile che comunque mi ha sempre affascinato del pop anni 80 questi colori un po' glam patinati delle riviste di moda così come questo stile qua per quanto riguarda qui c'è già un altro tipo di ricerca che è stata più che altro questa non è una cosa mia ecco questo l'ho fatto io questo è sempre un acrilico su tela che è una ricerca che ho fatto così più che altro a livello stilistico volevo riunire un po' uno stile etnico mischiando varie influenze anche antropologiche ho fatto una lunga ricerca studiando per cercare di riunire un po' questo stile avveneristico scenografico un po' da science fiction così molto da illustrazione insieme a quelle che erano un po' le mie passioni degli ultimi anni per quanto riguarda c'è stato anche un periodo in cui ho avuto diciamo un'esigenza più intimista di ricerca non necessariamente legata diciamo a un aspetto così immediato e come dire di gradevole aspetto che quando ci arrivo ve lo faccio vedere un attimo solo che è più diciamo più viscerale più espressivo più diciamo un po' tipo espressionismo astratto il mio scopo era quello di con poche linee rivelare in realtà l'identità della gente comune si rifà un po' anche al neoespressionismo astratto di Baschia ma il mio intento era quello un po' come faceva Francis Bacon che anche se con un risultato non piacevole a vedersi però in realtà rivelatore della vera essenza umana se vogliamo anche non non benevola anche un po' malefica ecco il mio intento era proprio quello quindi a parte queste queste che state vedendo che comunque fanno parte sempre di un certo lungo periodo di ricerca anche stilistica passando un po' ecco e questo è quello di cui vi stavo parlando questa specie di espressionismo astratto un po' graffidistico che alla fine si è concluso sintetizzando molto togliendo molti colori e molte cose a questo diciamo a questa opera qui che è un acrilico su tela mi sembra 80x80 monocromatico con poche linee che racchiude diciamo un po' l'idea che avevo io di sintesi ecco ok poi il resto sono opere su commissione con varie influenze sempre stato affascinato dall'underground e la poster art i graffiti la skate culture e varie altre cose che comunque mi hanno influenzato la pop art poi essendo cresciuto negli anni 80 quindi insomma e niente ecco questo è tutto scendiamo la luce non senti di muoverti in un territorio già marcato cioè forse dubbiamente sì il territorio è in realtà no in realtà no tu non devi domandare quindi si muove in un territorio effettivamente già battuto che altro si può dire e forse è un po' troppo discontinuo nel senso che vedo tantissima roba tantissimo tantissimi stili a cui ti rifai cioè non è solo una questione di riordinare perché andrebbero riordinati ovviamente nella questo non è un porforio questa è una raccolta di immagini disordinata però poniamo che tu riuscissi a riordinarle in un porforio ti rimarrebbe comunque la necessità di creare dei collegamenti o comunque di far capire perché c'è una varietà di approccio stilistico segnico vedo anche molta calligrafia islamica stili di scrittura provenienti da diverse culture quindi c'è tutta una serie di cose che al momento appaiono molto disordinate e queste cose si traducono in uno spreco di energia nel senso che tante cose fatte però ancora non una direzione precisa però restiamo agli ultimi diciamo a questi volti un po' più definiti che come dicevi tu riprendono certe cromie degli anni 80 un certo immaginario fantascientifico in parte cyberpunk un pochetto cyberpunk qua vedo le robe custom culture ecco è tutto molto confuso nel senso tanta roba è come se tu avessi voluto fare tutto però le opere su commissione se devono entrare in un portfolio devono essere attinenti al discorso che tu stai facendo se sono opere prettamente commerciali e non hanno attinenza con la tua indagine allora devono essere fuori portfolio cioè come si immaginiamo un esempio paradossale assurdo ma è come se Pollock nel mezzo della sua ricerca venisse richiesto da una gentildama dell'altra società di fare il ritratto ecco e lui facesse un ritratto mimetico ovviamente questo crea un qualche problema cioè è ovvio che si stanno utilizzando gli strumenti per fare qualcosa che però non ha nulla a che vedere con la ricerca la ricerca deve essere una via maestra anche se può contenere diverse cose cioè può contenere una serie di ritratti cyberpunk può contenere una serie di ibridi può contenere tante cose ma deve esserci il senso il filo che unisce tutta questa biodiversità in un'idea grosso modo tale per cui si possa dire beh questa cosa è diversa da questa ma è comunque lui è comunque il suo approccio è comunque il suo stile forse una ricerca sulla figura femminile c'è in embrione perché forse manca poi o potrebbe aiutare un altro un appoggio alla figura femminile non soltanto in senso estetico perché comunque tecnicamente per me è bravo è spento e ridici tutto ecco e forse il filo con storia che c'era nella ricerca non è ma tu non è non toccare tuca no si dice a Milano io non tocco niente quindi c'è un filo nella serie delle donne mi sembrava però deve essere un po' rapporzata questa ricerca perché tecnicamente a me sembra comunque valido ha sperimentato tante tecniche solo questo volevo dire sì è quello che ho sempre detto sto dicendo con un pazzo da tre giorni se non lavori tutti i giorni questa cosa non si può creare se non tutti i giorni la tua testa il tuo cuore non sono lì non si può sviluppare un'identità forte cioè non solo uno stile un'identità forte cioè se no si ha la sensazione di una dispendio energetico multidirezionale che pur trovando qualità nei singoli episodi però non può essere tutto accomunato sotto uno stesso ombrello come dire sotto una stessa cioè uno stesso alveo di indagine e quindi questo è un problema ecco perché non è solo per forzare la pigrizia ma bisogna fare tutti i giorni fare arte la prima parte di questa affermazione è fare o essere se volete ma comunque bisogna dedicarsi non si può fare arte una volta a settimana non si può fare arte una volta al mese non si può rispondere quando ci chiedono cosa stiamo facendo che stiamo per fare stiamo sempre facendo cioè non è un l'arte non va in ferie l'arte è la vita è la stessa identica cosa non c'è una scissione non vorrei essere tornare a Oscar Wilde ma veramente arte e vita questo binomio è soltanto fittizio quindi se io faccio arte una volta alla settimana otterrò i risultati della volta alla settimana se io mi alleno una volta al mese a giocare a calcio io sarò un grande calciatore non è per caso che i calciatori si allenano così di frequente no? cioè il professionismo è una costante atletica della propria disciplina bisogna bisogna essere atleti in quello che pensiamo e facciamo è sempre lì con noi la chiamiamo ossessione ma potremmo anche solo chiamarla impegno e disciplina allora ok tu puoi andare abbiamo parlato di molte cose abbiamo parlato dei premi di come si fa un portfolio di come si fa uno statement abbiamo detto che molte delle cose per le quali ci lamentiamo e che causano malfunzionamenti nel raggiungimento ai nostri obiettivi sono cose che sono già dentro di noi abbiamo anche detto che questa faccenda del lamentarsi e di dare responsabilità all'esterno non è mai proficua anche quando è vera intendiamoci cioè se l'ambiente ostile bene ma continuare a dire che l'ambiente ostile e fare di questa considerazione un alibi per non fare non è bene o un alibi per non trovare soluzioni siccome il medico non ci ha comandato di stare nella medesima condizione sempre noi possiamo cambiare la nostra condizione abbiamo anche detto che la via maestra per produrre cambiamenti è uscire dalla zona di comfort zona di comfort uguale abitudini bisogna acquisire nuove abitudini ovviamente il processo di uscita dalla zona di comfort implica sempre un disagio le cose succedono là dove noi sentiamo sensazioni di disagio cioè dove non siamo abituati a muoverci dove dobbiamo confrontarci con modi di pensiero diversi dove affrontiamo condizioni ambientali diverse uscire dalla zona di comfort per cui vi rimando al libro che vi consigliavo ieri chi ha spostato il mio formaggio è uno dei temi principali e ovviamente tutte queste cose accumulate in questo poco tempo in tre giorni intensi di lavoro non produrranno immediatamente i propri frutti abbiamo detto che ci vuole un tempo di deposito per alcuni di voi sarà più veloce e per altri sarà più lento vi ricordate che la prima cosa che vi ho letto il decalogo dell'artista principiante diceva di badare molto bene a come vi rapportate con gli altri che sono nella vostra condizione cioè con i coetanei artisti con i colleghi artisti ciascuno ha le sue difficoltà ciascuno ha i suoi pregi i suoi difetti ognuno è diverso è unico bisogna imparare a rispettare gli altri bisogna imparare a copiare le buone idee bisogna imparare che non c'è uno migliore o peggiore c'è qualcuno che è più avanti nel percorso e c'è qualcuno che è più indietro nel percorso io ho visto accadere dei salti quantici di tanto in tanto cioè con meno progressività più sviluppo improvviso ma ho visto anche creare delle buone condizioni un buon lavoro anche con una tempistica molto più lenta abbiamo parlato dei premi e del fatto che non è sempre buono avere pregiudizi su ciò che non si conosce direttamente e quindi io credo che abbiamo detto più possibile in questi tre giorni vi ho dato un elenco di libri molti dei quali sono convinto che possano essere d'aiuto usate questi suggerimenti usate queste informazioni esattamente come usereste dei dispositivi tecnici cioè usateli un libro è una forma di tecnologia bisogna saperlo usare bisogna saperlo consultare una lezione è una forma di tecnologia oltre che di scambio per cui spero di avervi detto tutto io vorrei concludere prima delle domande risposte eventuali se sono rimasto in sospeso delle cose con un solito elenco dei miei questo è tratto da un testo che è nell'elenco dei libri che vi ho dato non è un testo che parli di arte io sono convinto che l'artista non può abbeverarsi solo alla fonte dell'arte propriamente detta visiva ma deve abbeverarsi a molte fonti è assolutamente scioccante per me rilevare quanti artisti non leggano quanti pochi artisti conoscano il cinema e il teatro quanti siano molto ossessionati dalla propria arte con il risultato però di continuare a avere sempre una sorta di incestuoso rapporto che genera poca fertilità con un solo ambito creativo cioè le fonti di ispirazioni sono là fuori e sono ovunque sono dentro e fuori di noi in ogni ambito della creatività io non sto dicendo di creare necessariamente collaborazioni tra le arti sto dicendo di guardare alle arti perché buona letteratura è nata dalla visione dell'arte buona arte è nata dalla visione del cinema e via di seguito cioè l'interscambio può anche essere muto segreto non necessariamente tra persone fisiche però è bene sapere che l'artista dovrebbe appartenere alla categoria intellettuale quindi essere qualcuno che non è solo un mero esecutore e quindi siccome l'arte è la vita e la vita ha anche di artistico Wilde diceva che era la natura a copiare dall'arte e non viceversa non è esattamente così però apprezzo il paradosso di Wilde io vi leggo questa cosa che non ha nulla a che vedere con l'arte ma secondo me ha molto a che vedere la scritta Sheldon Kopp uno psicanalista ebreo morto di qualche anno fa ha pubblicato un libro che si intitola Se incontri il Buddha per strada uccidilo è il racconto della sua professione di psicanalista con la trattazione di alcuni casi diciamo però in realtà è un libro di vita è un libro pieno di racconti ironici divertenti anche sapienziali lui scrive alla fine di questo libro c'è questo elenco che si chiama un elenco parziale delle 927 o sono 928 verità eterne e io ve le vado a leggere non sono così tante come lui annuncia lui dice è tutto qui non ci sono significati reconditi non puoi arrivarci da qui e inoltre non c'è alcun altro posto dove puoi andare siamo tutti già moribondi e saremo morti per molto tempo cioè perlomeno nonostante io creda nella reincarnazione limitatamente a questa esperienza di vita avete questa opportunità queste opportunità questa tendenza micidiale a rimandare le cose a rimandare il confronto a rimandare la delusione a rimandare posticipare l'errore è fatale ricordate Bruce Mao Violetto fate errori con rapidità smettetela di posticipare volete evitare delusioni che comunque dovrete provare allora provatele più in fretta possibile nulla dura per sempre quindi neanche voi sei molto importante non c'è alcun modo per ottenere tutto ciò che si vuole sette molto saggia questa cosa non puoi avere nulla a meno che non lasci la presa questo lo dicono anche i sufi cioè c'è un modo di desiderare il raggiungimento dei propri obiettivi che non ha nulla a che vedere con un modo ossessivo cioè noi possiamo desiderare intensamente qualcosa ma state certi che otterremo solamente quando avremo allentato la tensione di questo desiderare perché il mondo intorno a noi si accorge di questo desiderio che registra come una forma di mancanza desiderare qualcosa significa essere mancanti di qualcosa e volerlo completare tutto intorno a noi si accorge di questa mancanza siccome tutto l'universo è in qualche modo saggio ti dà esattamente quello che tu hai già cioè per analogia ti corrisponde ciò che tu chiami attraverso il tuo comportamento cioè se sei antipatico ti attiri antipatia se sei generoso attiri generosità quindi tu attiri già quello che hai se tu manifesti ciò che non hai continui ad attirare la manifestazione di ciò che non hai e continui a non avere mollare la presa significa che le cose accadono quando hai smesso di dargli così importanza da rovinarti la vita non vi è mai capitato di ottenere qualcosa nel momento in cui non la volevate più è una roba che succede di frequente volevo tanto essere fidanzato con quella ragazza e poi scopro quando me ne sono dimenticato che posso avere quella persona quante volte è una cosa tipica sei single dunque a caccia e nessuno ti vuole puzzi di cadavere sei fidanzato e ti vogliono tutti cioè il mondo ti dà esattamente quello che hai già siccome sono desiderato continuo a essere più desiderato questo significa mollare la presa è non essere ossessivi non è che se continuate a chiedere a domandare attenzione ascolto l'otterrete fate il vostro percorso domandate perché bisogna domandare cioè bussa e ti sarà aperto se vuoi vincere al super enalotto devi giocare la schedina se no non lo vinci però non devi giocare la schedina tutti i giorni e rovinarti alle macchinette perché vuoi vincere capite cioè mollare la presa significa avere un po' di buon senso desiderate le cose con intensità ma allo stesso tempo coltivate il distacco perché il distacco fa ottenere molte cose sì avere fiducia che la domanda una volta che è stata lanciata come un missile qualcuno la riceve otto puoi conservare soltanto ciò che dai via cioè devi essere generoso non ottieni nulla se non dai nulla e non ottieni necessariamente dalla persona a cui dai è il processo qua qualcun altro si incaricherà di restituire ciò che dai ma certamente più sei generoso e più ricevi nove non c'è alcuna ragione particolare per cui non hai ricevuto alcune cose il mondo non è necessariamente giusto e l'essere buoni spesso non viene ricompensato e sicuramente non c'è alcuna ricompensa per la sventura quindi usciamo dalla teatralità romantica del povero me sventurato che figo ne faccio un argomento per avere più appille più all'urra sugli altri no la sfiga è sfiga ecco e non so come dire allontana le cose ecco la sfiga se l'avete avuta nascondetela 11 non di meno hai la responsabilità di fare il tuo meglio comunque sei responsabile di tutto ciò che fai quindi smettere di dare responsabilità fuori è una cosa saggissima perché dà un immenso potere vuol dire che tu sei responsabile di ogni errore che fai ma sei anche meritevole di ogni conquista quindi questa è tua al 100% come lo è anche l'errore e non c'è potere più grande che assumersi tutte le colpe e tutti i meriti 13 12 è un universo casuale a cui noi apportiamo significato 13 in realtà non controlli nulla 14 non puoi costringere nessuno ad amarti 15 nessuno è più forte o più debole di te tutti sono a modo proprio vulnerabili non ci sono grandi uomini e se hai un eroe dagli un altro sguardo perché in qualche modo hai diminuito te stesso 19 tutti mentono ingannano fingono sì anche tu e certamente io 20 tutto il male costituisce una vitalità potenziale bisognosa di trasformazione tutto ciò che accade può essere trasformato quindi gli insuccessi gli errori le sfighe i fallimenti tutto è un male che deve essere trasformato 21 ogni parte di te ha il suo valore se solo la accetti 22 il progresso è un'illusione che non significa che l'evoluzione sia un'illusione 23 il male può essere spostato ma mai cancellato dal momento che tutte le soluzioni generano nuovi problemi tutte cioè noi vogliamo essere un artista riconosciuto e fino a quel momento le nostre problematiche sono di un certo livello di intensità poi accade che diventiamo artisti riconosciuti e le nostre problematiche si spostano di livello ora vogliamo qualcosa in più vogliamo essere artisti riconosciuti che hanno che fanno cose importanti poi le raggiungiamo e vogliamo di più vogliamo essere artisti che fanno cose importanti ma che sono collezionate nei musei e via di seguito questo è il male il male del desiderio secondo il buddismo noi continueremo a spostare il livello e l'asticella quindi questa cosa non si risolve dobbiamo solo accettare che salirà di intensità il livello dei problemi quando tu risolvi piccoli problemi impari poi pian piano a risolvere problemi più grossi e via via i problemi sono sempre più grossi i grandi manager delle multinazionali le persone che stanno ai vertici risolvono grossissimi problemi o anche no alcuni non li risolvono ma quello che voglio dire è che se la preoccupazione a un livello basico è come faccio a pagare questa bolletta la preoccupazione a un alto livello è come faccio a non mandare in cassa integrazione 500.000 persone a far fallire un'azienda che fa fallire lo Stato capite? cioè ogni livello ha una scala di grandezza dei problemi da affrontare e tuttavia è necessario continuare a lottare verso una soluzione l'infanzia è un incubo ma è così difficile essere un adulto indipendente autosufficiente e consapevole di dover badare a se stesso poiché non c'è nessun altro a farlo questo è il nostro scopo diventare adulti indipendenti e autosufficienti ciascuno di noi è in definitiva solo le cose più importanti ognuno deve farle da sé l'amore non basta ma certamente aiuta e abbiamo soltanto noi stessi e la fratellanza che ci unisce gli uni agli altri forse non è molto ma non c'è altro eppure che strano che tanto spesso tutto sembri valere la pena dobbiamo vivere nell'ambiguità di una libertà parziale di un potere parziale e di una conoscenza parziale infatti cosa molto importante anche per gli artisti tutte le decisioni importanti devono essere prese sulla base di dati insufficienti se aspettate che tutte le condizioni siano a posto per compiere una decisione non lo farete mai se aspettate ad andare a Berlino a vivere perché non avete ancora il lavoro garantito là e non avete ancora l'appartamento lì non farete nulla se aspettate a cambiare il genere di lavoro che fate non lo farete non ci saranno mai tutte le condizioni che voi aspettate perfette perché voi variate questa nave lo dovete fare col pericolo di tempesta tuttavia siamo tutti responsabili di tutti i nostri atti nessuna scusa sarà accettata nessuna scusa puoi fuggire ma non puoi nasconderti ed è importantissimo trovarsi senza più capri e spiatori perché l'unico modo di evitare la frustrazione permanente è non avere più scuse accettare gli errori e accettare i successi accettare tutto quello che avviene e dare come causa principale solamente a se stessi questo vuol dire non avere più capri e spiatori ma genera un livello elevatissimo di potere dobbiamo imparare la forza di vivere con la nostra impotenza e l'unica vittoria importante sta nell'arrendersi a se stessi tutte le battaglie significative anche quella degli artisti vengono combattute all'interno del sé sei libero di fare qualunque cosa vuoi devi soltanto affrontarne le conseguenze e cosa sai con sicurezza ad ogni modo perciò ultima impara perdonare te stesso più e più e più e più e più volte che equivale a dire impara a fare errori e vai avanti questo è l'ultimo foglio per il vostro frigorifero ok allora adesso prima di cedere la parola a Margherita e Cristiano se è rimasto qualcosa di poco chiaro avete l'opportunità di chiedere di fare domande e vediamo se è rimasto qualcosa diciamo in ombra mi domandavo dal punto di vista di un insider che posizione prende ad esempio lei per quanto riguarda uno pseudonimo cioè un nome per nascondere il vero nome il nome d'arte il nome d'arte un nickname un H non ho nessuna posizione credo che in alcuni casi sia comprensibile quando per esempio facciamo il caso di quegli street artisti che ovviamente tengono l'anonimato se non altro per non incorrere in denunce in quel senso bene però ho conosciuto per esempio degli artisti che hanno cambiato hanno utilizzato un nome d'arte perché non si identificavano più con la propria identità identità di genere in alcuni casi identità di appartenenza familiare in altri casi come quando si cambia il cognome perché non si vuole più quello del padre o della madre per cui io penso che in quei casi sia una scelta personale in quanto tale rispettabile conosco degli artisti che per esempio il nom de plume è diventato solo una parte del nome non so per esempio Salvo nessuno sa come si chiama di cognome io sì Arcangelo è un altro artista nessuno sa come si chiama di cognome io sì che ne so me ne vengono in mente altri Salvo Arcangelo ce ne sono comunque nome singolo diciamo non credo che ci sia nulla di male nell'acquisire un nome però io comunque invito a chiedersi perché perché è forte fai quello che che vuoi insomma altrimenti cioè è più facile per un fumettista sai un fumettista è una questione grafica di firma per cui avere un nome altro può anche aiutare a ricordare di più quel nome però per esempio sugli aventi nome singolo Francesco Bonami mi sembra nel primo suo libro mettesse molto alla berlina questo genere di scelta diceva non mi fido di quelli che hanno un solo nome e citava Salvo Arcangelo e altri ovviamente era umorismo però io penso che uno deve fare ciò che vuole sono convinto che però qualcosa produce l'allontanamento dalla propria identità cioè conosco per esempio un critico d'arte che è stato prima artista con un altro nome prima si chiamava in un modo e poi adesso è tornato al suo nome e cognome non lo so mi dà sempre un'impressione di instabilità della personalità diverso se si tratta dello street artista per le ragioni che dicevo non so se ho chiarito ecco questa è almeno la mia opinione sulla cosa qualcos'altro? abbiamo parlato di promozione cioè sul web tutti questi queste piattaforme dove ci si può creare una propria portfoglia diciamo che però molto spesso diventano un po' confusi perché c'è tanti generi dentro tante forme d'arte io in particolare ho una una pagina creata su Beyance mi sembrava una cosa interessante inizialmente adesso mi sto rendendo conto col passare del tempo circa due anni che però ha degli indirizzi ben precisi è nato inizialmente per la web design diciamo la grafica in particolare poi si è stesa la fotografia e anche l'architettura è arrivato insomma c'è un po' di tutto però ovviamente non è settoriale sono da ritenere come dire pericolosi perché possono confondere le idee o possono creare dei no tutto dipende da come fai le cose ovviamente cioè prendiamo il caso più facile eclatante facebook ovviamente se tu utilizzi la pagina come un artista allora come dire quella pagina va utilizzata assaggiamente non sto parlando di una fanpage sto parlando proprio della pagina col proprio nome e cognome per esempio gli artisti che la utilizzano bene e che da facebook ottengono delle cose in termini di vendite di business questi sono gli artisti che da un lato fanno vedere qual è il proprio immaginario quindi i propri gusti magari musicali o letterari cioè cos'è la persona però poi pubblicano anche i lavori e quando pubblicano i lavori fanno degli album con solo i lavori oppure distinguono degli album con i lavori per serie cioè di modo che quando vai nella voce foto vai a trovare i propri lavori li trovi discretamente ordinati ovviamente se tu vedi un lavoro che ti piace e ti incuriosisce hai la tendenza ad andare a vedere che cosa fa l'artista in quel senso lì facebook può essere molto utile per la comunicazione dell'artista e per anche avere un certo seguito magari anche di collezionisti conoscono diversi artisti che utilizzano facebook in questo modo e proficuamente quindi poi ovviamente diverso è il caso del sito web però facebook è una piattaforma in cui hai una maggiore possibilità che qualcuno inciampi nelle tue immagini il sito è qualcosa di più nascosto nel senso che per quanto possa essere indicizzato nella ricerca su google io devo sapere che tu hai un sito oppure devo cercare il tuo nome e cognome per trovarlo ma se io non lo conosco non posso cercare il nome e cognome mentre su facebook se per caso ho quell'artista tra gli amici scorrendo la bacheca io posso inciampare in un'immagine che cattura la mia attenzione quindi facebook secondo me oggi è un po' più efficace rispetto al sito il che non esclude che uno possa avere un sito che magari veicola attraverso facebook e quindi utilizzare sinergicamente queste due modalità il sito è ordinato esattamente in maniera professionale come un portfolio contiene molte più informazioni di facebook ma facebook è l'amo o l'apparanza che viene lanciata in mare per pescare funziona così poi c'è il blog che è uno strumento ancora più dinamico che però io più che al singolo artista cioè l'artista io consiglio più a chi scrive il blog il blog è un luogo di scrittura può essere un luogo di immagini però allora non può essere strutturato esattamente come un sito web perché intanto è lo scorrimento del blog è diverso e quindi quando io ho trovato degli artisti su dei blog ho faticato a organizzare le idee per capire esattamente cosa facessero quindi io consiglio per gli artisti sito e utilizzo dei social network twitter quello che volete il blog se l'artista avendo già un sito utilizza il blog per dare maggiore idea a un particolare progetto cioè ho un progetto in corso ho un progetto che richiede l'intervento di altri o che comunque voglio condividere perché è in una fase di processo è in un cosiddetto work in progress allora io scorporo oppure utilizzo il blog per approfondire quel singolo progetto artistico allora anche lì può funzionare ok siete stanchi comprensibile immaginate quanto sono stanco io per questo velocemente venite qua così almeno prendete l'ultima coda di attenzione ricordatevi di consegnare le vostre valutazioni a loro prima di andare via no no state giù seduti seduti no che foto di gruppo si vado prendo una pausa sigaretta anzi una pausa caffè posso passare la tecnica a qualcuno a te va bene allora innanzitutto io voglio ringraziare Ivan perché è stato insomma un incontro fantastico e volevo ringraziare tutti voi anche chi ci ha seguito in streaming perché avete avuto il coraggio di donarvi un'esperienza che penso vi porterete a casa ok allora perché noi due ci siamo inventati questa cosa allora innanzitutto noi abbiamo oggi un'associazione e abbiamo portato avanti per un anno e mezzo porteremo ancora avanti un progetto che nasce come rete tra spazi quindi tra spazi pubblici tra cui anche le manufatture CNOS nasce in provincia provincia di Taranto quindi il comune di Palagiano un laboratorio urbano che mi trovo in qualche modo a gestire a coordinare nasce naturalmente senza nessun tipo di finanziamento pubblico o privato io lo tengo a sottolineare il progetto Tulab ok quindi vabbè tu mi hai tolto la cosa sì 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 siamo stanchi ok quindi questo è un aspetto fondamentale perché in realtà e qui mi collego a quello che diceva prima Ivan infatti io sposo in toto quello che è stato detto noi ci siamo assunti un rischio ci siamo assunti una responsabilità abbiamo in qualche modo ci siamo lanciati in qualcosa che non sappiamo ancora dove ci porterà ci andava di farlo per cui secondo secondo noi secondo me la Puglia ne ha bisogno ha un'esigenza forte me lo avete dimostrato in questi giorni con la vostra presenza costante ne ha avuto conferme anche durante tutto il percorso di TULAB da quando abbiamo iniziato ad oggi ci siamo resi conto che c'erano delle necessità dei bisogni anche di formazione perché sono argomenti che chi meglio di voi sa insegnate voi che non se ne parla molto comunque ci sono molte lacune per cui ed era un'esigenza anche nostra di di approfondire ecco per fare meglio per cui facciamo meglio noi fate meglio voi fanno meglio chi ci ha seguito in streaming la Puglia ha bisogno che sappiamo fare meglio perché le potenzialità ce le abbiamo quindi io vi consiglio di tornare a casa magari non subito come dicevo ieri nei prossimi giorni vi fate il vostro portfoglio ve lo costruite con calma eccetera eccetera mi scrivete mi mandate una bella email e me lo inviate noi continuiamo con il nostro progetto di circuitazione per cui noi arriviamo su territorio pugliese lavoriamo nella provincia perché vogliamo portare l'arte nella provincia non solo nei grandi centri urbani lontano chilometri vogliamo uscire fuori dalla Puglia ci abbiamo tante ambizioni vuoi aggiungere qualcosa? qualcuno di voi sa di che cosa sto parlando perché ha partecipato al percorso vi nomino parlo di Romanelli Gazza Paolo Ferrante c'era qualcun altro? sono andati va bene e ci tengo a fare i nomi perché noi abbiamo creduto in voi voi avete creduto in noi grazie cercate di utilizzare questa cosa per creare anche una rete tra voi cercate di frequentarvi cercate di frequentare o di stare attenti alle cose che fanno perché magari potreste trovare altre opportunità di confronto perché ovviamente quello che manca in un territorio dove le presenze e i centri del fare arte non sono molti è che non si crea l'opportunità di creare di avere un confronto tra gli artisti cercate di frequentare anche ciò che non vi è vicino sia come luogo sia come persone e cercate di minimizzare i costi nel senso che ci si muove più facilmente per andare a vedere le cose se si fanno delle macchinate e ci si divide i costi lo dico perché l'hanno sempre fatto dagli anni 80 mi ricordo all'arcangelo che citavo prima mi raccontava che quando c'erano le grandi mostre a Napoli di Warhol la famosa terremotus ma anche comunque altre occasioni gli artisti di una certa area facevano le macchinate e partivano e andavano ma senza andare troppo lontano comunque questo succedeva anche quando Paolo Erbetta aveva la galleria a Foggia io ricordo le prime volte che sono andato molti artisti arrivavano insieme per quelle rare occasioni in cui c'erano delle mostre quindi prendete l'abitudine ad assumere una mobilità contenendo i costi ma in questo modo non rinunciando a fare il necessario per essere presenti almeno nelle occasioni di casa ecco casa intendo Puglia ok grazie di avere partecipato perché come sempre queste occasioni sono importanti anche per me cioè sono dei momenti di arricchimento reciproco spero che mettiate in pratica molto di quello che abbiamo detto e che soprattutto rinunciate ad avere quegli alibi che vi ho detto sono il vostro tormento principale quindi grazie ancora e adesso rilassatevi e divertitevi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti